Marco Aureli, parliamo di queste finali under 15 di basket femminili che si giocheranno a Roseto e poi anche ad Atri, Giulianova e Dal Badriatico, un importante appuntamento di caratura nazionale. Questo qui, diciamo che dopo il trofeo delle regioni, a livello femminile, nel basket della Federazione Italiana Placanestro è l'evento più importante che si fa ogni anno. Come si svolgerà questo torneo? Il torneo si svolgerà in quattro campi, appunto come diciamo a Roseto campo centrale, poi giocheremo ad Atri, a Giulianova e ad Dal Badriatico. Sono previsti due concentramenti, praticamente Roseto e Atri per quattro gironi, Dal Badriatico e Giulianova per gli altri quattro gironi. Passeranno alla fase successiva le prime 16 squadre che si qualificheranno, per cui passeranno due squadre per ogni girone. E di conseguenza arriveremo alla finale di Roseto il 2 giugno. Roseto sposa ancora una volta un obiettivo, sport e turismo, in un periodo che è destagionalizzato, quindi permette agli operatori del settore di respirare in un periodo di crisi come questo. Dopo il trofeo Lido delle Rose, un altro importante appuntamento per la vostra città? Sì, purtroppo il torneo Lido delle Rose si sta depotenziando nel corso degli anni anche per delle evidenti problematiche economiche. Quei bei periodi per il momento sono difficili da ripetere, però siamo fiduciosi che il torneo Lido delle Rose riprenderà veramente lustro nel corso del tempo.